The New Stories. La tua informazione libera. A condurre il programma Affari Tuoi. Un gioco televisivo con ottimi ascolti che intrattiene gli spettatori quotidianamente. L'indiscrezione è apparsa in un post pubblicato da Candela su X. Fiorello ha commentato l'argomento nella puntata di Vivarai 2 del 10 aprile con un tocco di ironia. Ha confermato che ci sono dei cambiamenti in corso, ma ha detto scherzosamente «Io so le cose ma non le posso dire». Ha rivelato che Amadeus ha incontrato i vertici il 9 aprile per comunicare qualcosa di importante, di cui non sono autorizzato a parlare, ma guardate la mia faccia. Poi, ammiccando alla telecamera, ha concluso «In questo momento so che Amadeus mi sta guardando, così come Roberto Sergio. Sanno che io so, ma non posso rivelare nulla».